ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi voglio farvi vedere come ho decorato i miei pendenti o di pandora sia quello piccolo che quello medio con i charm sempre di pandora questo è il pendente medio ho messo la catenella perché a me piace avere la catenella un po che ciondola così questa è l'unica che ho preso su amazon e non è di pandora allora ha dei fiorellini lilla è molto bella con al centro di ogni fiorellino lo zircone azzurro ecco magari si vede un pochino meglio insomma sempre ecco così poi ho messo il bimbo il maschietto dedicato a mio figlio il tronchetto che mi piace tantissimo un po per la natura è un po per il fatto che ha comunque sul retro e un cuoricino sempre dedicato alla ferie affetti all'amore e poi lì lì il vagabondo della disney che a parte è un film bellissimo che mi piace molto però è un pochino raffigura me e mio marito che siamo un po due opposti però che ormai da 25 anni sia continuano ad amarsi e stare bene insieme quindi questo è il primo ciondolo appunto che ho decorato in questo modo per fermare siccome sia il tronchetto che il bambino giravano spesso e a me non piace mettere ciondoli che si muovono particolarmente quindi preferisco avere queste parti fisse e per mettere fisse ho messo dei gommini all'interno dei fori adesso vi faccio vedere anche i gommini li ho inseriti con una pinzetta li ho tagliati li ho inseriti con una pinzetta e così ho fatto in modo che almeno questi due restino fermi le uniche cose che voglio che ciondoli non siano queste le gommini che ho messo all'interno sono questi siccome erano un po' grandi rispetto al foro li ho tagliati e appunto con una pinzetta sono riuscita ad inserirli all'interno così nel foro e appunto rimangono bloccati così non si muovono e il ciondolo mi piace molto di più in questo modo questo invece è il pendente piccolo che cambio spesso i charm dentro questo qui è la chiappa sogni è uno dei miei preferiti invece nell'altro rimane un po' tutto fisso perché è un po' dedicato ai miei affetti mentre con questo ci gioco un po' di più questo è uno questa è l'altra versione con gli open work che mi piacciono tantissimo perché hanno lo stesso fiore centrale della chiappa sogni anche se mi sembra molto pieno e comunque fa il suo bel effetto mi piace anche molto con il pinocchio della disney adorabile semplice ci sta bene anche così ho voluto mettere a provare a mettere anche la chiave disney quella del parco raffigurante topolino stilizzato e non mi sembra male neanche così con una bella collana lunga mi piace anche questa versione l'anello che ho messo l'ho preso su amazon ed è tutto in argento poi comunque lo userò anche in un'altra collana che vi faccio vedere dopo questa è un'altra versione che mi piace molto con la murrina di pandora verde un po' tifani e una catenella di sicurezza in argento non è pandora anche questo l'ho preso su amazon comunque mi sembra che faccia la sua bella figura anche così semplice però ad effetto con questa murrina di questo bellissimo colore di questo pendente o apprezzo tantissimo la versatilità in qualsiasi giorno si può cambiare a seconda di come ci si sente è molto bello un'altra versione con il cuoricino sempre di pandora e la catenella con topolino con al centro i zirconi rossi anche questa è una bella versione sono tornata a questa versione che mi piace tantissimo poi oggi è una giornata un po' brutta piove e questo colore bellissimo di questa murrina rallegra la giornata la chiave di topolino l'ho messa sulla catena normale e penso proprio che sia meglio così singola con questi due splendidi pendenti vi saluto se il video vi piace mettete un like e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao